Ragazzi quando si dice il karma sarà solo una coincidenza? In una libreria c'era questo libro Matteo Salvini secondo Matteo e subito sotto come riconoscere uno stronzo al primo sguardo Secondo voi è una coincidenza? Ragazzi è incredibile, è incredibile, secondo me no è il karma, come riconoscere uno stronzo al primo sguardo Eh? Non è male eh? Bellissima! Fatela girare vi prego